Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Parleremo a breve di diversi argomenti inerenti all'emergenza coronavirus. Ci sono delle novità molto importanti ma dovremo parlare anche di cronaca perché sono state registrate ancora violenze nel ferrarese, in particolare su Unadon. Ne sentiremo a breve ma parleremo anche del paglio perché anche nel 2021 non si faranno le corse in piazza Ariostea dopo il 2020. E poi andremo anche nelle province, nelle frazioni del comune di Ferrara dove è in corso un progetto. Parleremo anche di sport, anche della Star NBA che sta girando per Ferrara in queste ore. Sentiremo chi è e il motivo per cui è nella città estense. Ma dobbiamo aprire con l'argomento su cui si sta dibattendo anche a livello politico, a livello nazionale. Parliamo delle discoteche. Poco fa sono intervenuti il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore al turismo Corsini che hanno detto all'unisono riaprire le discoteche permettendo l'accesso solo a chi ha il Green Pass e nel rispetto di protocolli condivisi con i locali chiusi dicono Bonaccini e Corsini. Adesso si balla ovunque senza regole quando invece non bisogna abbassare la guardia. Questo è appunto il messaggio dei Bonaccini. Si sta dibattendo di Green Pass anche a livello nazionale in più contesti. Sono diversi i presidenti di regione che stanno intervenendo sull'argomento. Ma per combattere anche le varianti del Covid serve la vaccinazione necessaria per arrivare a una immunità di gregge. Quanto ribadito dal professor Marco Libanore, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara che interviene anche sul vaccino Reitera sperimentato con efficacia anche al Sant'Anna. Sentiamo. I vaccini sono lo strumento fondamentale per combattere anche le varianti da SARS-CoV-2, a ribadirlo il professor Marco Libanore, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Ferrara. È previsto soprattutto per settembre-ottobre un cambio epidemiologico in cui l'Alfa, l'ex inglese per intende, ci verrebbe addirittura soppiantata totalmente dalla Delta o ex indiana che dir si voglia. Però come in tutte le cose dobbiamo noi porre attenzione al fatto di raggiungere la completa vaccinazione con entrambe le dosi per tutta la popolazione. Allora solo da questo punto di vista potremmo dopo verificare qual è l'effettivo impatto. Quindi dobbiamo cercare di convincere tutte le persone a vaccinarsi in maniera adeguata perché la garanzia la si ha solo da questo punto di vista. Negli ospedali di Ferrara e Provincia al momento la situazione è sotto controllo con numeri confortanti ma non bisogna abbassare la guardia. I numeri sono ancora diciamo molto contenuti, si contano sulle dita delle mani, siamo in una situazione per adesso tranquilla. È chiaro che con i movimenti di popolazione anche i casi che sono osservati sono soprattutto giovani stranieri oppure anziani che non hanno attuato la vaccinazione al completo perché i numeri poi ci dicono questo. L'unità operativa complessa diretta dal professor Libanore è entrata nella sperimentazione clinica della fase 2 del vaccino italiano Reitera effettuata in 25 centri d'Italia su quasi mille volontari e poi stoppato lo scorso maggio dalla Corte dei Conti. In queste ore però il commissario Figliuolo ne ha annunciato il probabile avvio in autunno della terza fase di un vaccino efficace al 99% nel produrre anticorpi. Dal punto di vista pratico effetti collaterali importanti non ne sono stati osservati. Abbiamo avuto una soddisfazione molto importante perché con l'apertura del cieco dopo due mesi sui pazienti trattati abbiamo avuto modo di verificare che quelli che di fatto erano stati trattati con la doppia somministrazione avevano un tasso anticorpale ottimale e quindi pur essendo uno studio preliminare in fase 2 questo ci conforta molto e ci fa ben sperare anche sul fatto di avere l'opportunità con i fondi di passare alla fase 3 che sarebbe auspicabile in modo da avere anche l'opportunità di fare un vaccino italiano per la prima volta. Intanto dall'azienda USL di Ferrara dicono che il 70% della popolazione estense over 12 è vaccinata con almeno una dose mentre con entrambe le dosi la percentuale raggiunta è del 45%. Con questi ritmi dicono dall'azienda USL al 16 agosto avremo il 70% dei ferraresi over 12 che avranno completato il ciclo vaccinale e dentro settembre dovremo raggiungere il traguardo dell'80%. Intanto però è arrivato il bollettino coronavirus dati in miglioramento rispetto al report di ieri da cui emerge ancora che in Emilia Romagna non c'è stato nessun decesso per Covid. Tre nuovi casi positivi al coronavirus nel ferrarese, solo uno di loro è asintomatico su 32 tamponi eseguiti un dato migliore rispetto ai bollettini precedenti. Ancora zero i nuovi guariti in territorio estense ma ad emergere l'ennesimo giorno senza decessi per Covid sia in tutta l'Emilia Romagna sia nel ferrarese, questo l'ultimo bollettino coronavirus. L'aggiornamento regionale registra 76 nuovi positivi, anche questo un dato migliore rispetto al precedente quando si superò quota 100 nuovi casi in un giorno, in Emilia Romagna aumentano i guariti, calano i casi attivi e i ricoveri. Capitolo vaccini anti-Covid nel ferrarese, buone le notizie, tornano a crescere in maniera importante le dosi somministrati in un giorno nel territorio estense, lunedì quasi 3.300 somministrazioni che fanno salire oltre 221.500 i ferraresi che hanno ricevuto almeno la prima dose mentre sono più di 139.000 gli immunizzati sul territorio. Dall'Istat la fotografia dell'Italia dall'inizio della pandemia ai primi mesi del 2021 nella 29esima edizione del rapporto annuale 2021 dell'Istituto Nazionale di Statistica presentato il 9 luglio scorso a Palazzo Montecitorio dal Presidente Giancarlo Blangiardo. A metà del 2021 le conseguenze dell'emergenza sanitaria caratterizzano ancora il quadro economico e sociale del Paese, a scriverlo è l'Istat nel rapporto annuale 2021. La recessione globale è stata, scrive, violenta e di breve durata, ma grazie alle misure di sostegno alla ripresa dell'attività economica in tutte le principali economie si assiste anche in Italia ad una seppure modesta ripresa. Così, sempre secondo i numeri dell'Istat, il pilo italiano dopo la caduta dell'anno passato, arrivato ad un meno 8,9%, dovuto essenzialmente al crollo della domanda interna, è previsto in rialzo del 4,7% nel 2021. Questa è, in estrema sintesi, la reazione del Paese a Covid-19. A fronte di un crollo generalizzato dell'economia italiana, registrato dall'Istat nel 2020, il 2021 presenta però già miglioramenti, anche forti, nella manifattura, nelle costruzioni e in alcuni comparti del terziario, mentre cresce sul versante dei consumi il clima di fiducia delle imprese e dei consumatori. Certamente in un contesto generale in cui il clima economico risente in modo positivo della frenata dei contagi è resa possibile, oltre che dalla stagione estiva della campagna vaccinale, cui il Paese sta rispondendo con convinzione. Recupera, continua l'Istat, anche l'occupazione, ma lascia per strada 735.000 persone rimaste senza lavoro rispetto a prima dell'emergenza. I trasferimenti alle famiglie hanno limitato la caduta del reddito disponibile, sottolineando che, per rendere possibile le misure di contrasto all'emergenza, sono stati sospesi i vincoli del patto di stabilità e crescita e il deficit pubblico è salito in Italia al 9,5% del PIL. Il calo dei consumi è stato più ampio di quello del reddito, sottolinea l'Istat, con un tasso di risparmio che proprio in conseguenza di questo freno ai consumi da parte delle famiglie è quasi raddoppiato. I consumi sono scesi più nel nord che nel centro e nel mezzogiorno, lasciando invariata nel complesso la spesa per alimentare e per l'abitazione, spesa che invece si è ridotta anche in misure molto forti nelle attività più soggette alle restrizioni legate soprattutto agli spostamenti e ai riti della socialità. L'incidenza della povertà assoluta, misurata sui consumi, è in forte crescita, soprattutto nel nord, mentre si osserva che la diversa organizzazione dei tempi di vita e di lavoro della popolazione indotte dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria sta gradualmente tornando ad una quotidianità più vicina a quella pre-crisi. Cronaca, sono giorni in cui nel Ferrarese e soprattutto in provincia si registrano diversi interventi dei carabinieri per casi di violenze e anche sulle donne un fenomeno che continua a preoccupare soprattutto dopo la recrudescenza registrata dalla primavera del 2020. Minaccia ripetutamente di morte una donna denunciato dai carabinieri e quanto successo lunedì ad Argenta dove un uomo di origine algerina di 37 anni è stato denunciato per aver minacciato di morte in più occasioni una quarantenne del luogo. Le motivazioni sono sconosciute ai militari che stanno indagando carabinieri che lunedì hanno denunciato per lesioni personali un bolognese di 29 anni Reo secondo l'accusa di aver sferrato pugno al volto a un 63enne centese al culmine di una lite in strada sfociata tra i due automobilisti per motivi di viabilità. Il più anziano ha riportato lesioni che guariranno in un mese. Intanto stanno fioccando le denunce da parte dei carabinieri nei confronti di tre persone coinvolte nella rissa al bar Filippo di Comacchio un mese fa denunciati i tre cinquantenni, due comacchiesi e un cremonese. E continua a Ferrara come in tutto il paese la raccolta firme per il referendum per l'eutanasia legale lanciato dall'associazione Luca Coscioni e a cui hanno aderito moltissimi soggetti politici e della società civile. In nemmeno due settimane si sono raccolte a Ferrara oltre 850 firme dichiara Leonardo Fiorentini, uno dei referenti del comitato locale. L'obiettivo continua è raggiungere le mille firme entro la settimana banchetto che tornerà in piazza mercoledì e venerdì. E rimaniamo a Ferrara dove era nell'aria da giorni alla fine è arrivata l'ufficialità anche l'edizione 2021 del Paglio. Quest'anno non si farà il motivo purtroppo il solito le incognite provocate dalla pandemia. Una decisione sofferta ma responsabile è quella presa lunedì dal vice sindaco e assessore al Paglio Nicola Lodi dal comitato esecutivo dell'ente Paglio della città di Ferrara in accordo con l'amministrazione comunale. L'edizione 2021 del Paglio di Ferrara è stata annullata, non si farà. Fissata inizialmente per domenica 19 settembre in piazza di Ostea, le corse dei cavalli, delle asine, dei putti e delle putte quindi non si terranno neanche quest'anno per la seconda edizione consecutiva. Si tratta indubbiamente di una decisione molto sofferta considerando che non accontenterà tutti ma è una decisione responsabile, precisano Nicola Lodi e Nicola Borsetti, presidente dell'ente Paglio. Secondo cui l'emergenza pandemica ancora non risolta e le misure di restrizione ancora in vigore sono incompatibili con la natura dell'evento, dicono. L'eventuale calendarizzazione nella seconda metà dell'anno di altre manifestazioni del Paglio verrà presa in considerazione nelle prossime settimane e sottoposta a verifiche al fine di appurare la reale fattibilità, evitando forzature di qualsiasi tipo, aggiungono gli organizzatori. Ha preso il via nelle scorse settimane il progetto del comune di Ferrara chiamato con le frazioni, oggi si è fatto un primo iniziale bilancio dell'iniziativa, sentiamo. Si è tenuto nella residenza municipale un resoconto della prima fase del progetto con le frazioni, con l'illustrazione dei risultati raccolti e delle azioni e progetti che saranno avviati per i prossimi mesi. Tre le località da cui è partita l'iniziativa, Casaglia, Ravalle e Porporana. All'incontro sono intervenuti il vice sindaco e assessore a sicurezza e frazioni Nicola Lodi, la responsabile dell'URP Cinzia Grabs e il referente del centro di mediazione del comune Nicola Bogo. Le prime tre tappe, Ravalle, Casaglia e Porporana, ci hanno riservato tantissime sorprese, tantissime sono state le richieste, erba, strade, aiuti alle associazioni, parchi per bambini, le segnalazioni sono state veramente tante. Non ci aspettavamo una richiesta così importante di segnalazioni. Ecco, quello che ci tenevo a dire che non è semplicemente una raccolta di segnalazioni ma anche una risposta, lo dimostra il fatto che già questo giovedì siamo già sui tre territori, con dirigenti, con altri assessori, con era, per dare le prime risposte. Risposte in merito ai rifiuti, alle strade, a dei passi carrai, a tantissime, allo spazio dell'erba, alla manutenzione degli stabili comunali. La sorpresa più grande è essere arrivato nelle frazioni ed essersi trovato di fronte a decine e decine di persone. Le richieste maggiori sono arrivate dalle persone anziani. Questo era l'obiettivo, dare risposte e dare la possibilità agli anziani di vedere il sindaco, il vice sindaco, un assessore proprio nel loro territorio. Abbiamo già calendarizzato i primi interventi, alcuni giorni fa in equilibrio di bilancia ho già inserito i primi 250 mila euro pronti e disponibili a dare le prime risposte concrete in termini di marciapiedi, arredo urbano, gioste per bambini e tanto altro. Andiamo adesso in provincia di Ferrara dove questa mattina a Lido Scacchi è stata presentata l'applicazione Web Job App per la gestione delle chiamate per lavoratori. Appunto a chiamata, stiamo parlando di lavoro semplice e sicuro, così è stato definito il tutto, si potrà gestire dal proprio smartphone. Presenti alla presentazione appunto del progetto Gianfranco Vitali, presidente della delegazione di Comacchio di Ascom Conf Commercio, poi Davide Urban, direttore generale di Ascom e alcuni specialisti appunto di Conf Commercio Ferrara che hanno presentato questa app appunto che interesserà soprattutto in questa fase dell'anno il litorale estense. Adesso però torniamo in città per parlare di arte, ci stiamo avvicinando all'ultimo fine settimana della mostra di Ligabue a Palazzo Diamanti, è previsto un evento speciale, poi il palazzo chiuderà per lavori fino all'anno prossimo, ma sentiamo qual è la novità importante. Ci stiamo avvicinando al gran finale della mostra di Ligabue a Palazzo Diamanti, per l'occasione la Fondazione Ferrara Arte ha deciso di organizzare aperture serali straordinarie per dare la possibilità a più persone possibile di visitare le stanze dei Diamanti che stanno ospitando da mesi le meravigliose opere dell'artista. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio, quindi tutto il fine settimana, Palazzo Diamanti sarà aperto fino a mezzanotte, sono così gli ultimi giorni per visitare la mostra antologica Antonio Ligabue, una vita di artista. Per dare la possibilità al pubblico di ammirare le oltre 100 opere esposte a Palazzo Diamanti, la rassegna rimarrà eccezionalmente aperta fino a notte con la chiusura della biglietteria alle 23.30. Una mostra che ha subito profondamente le chiusure imposte dall'emergenza sanitaria, l'inaugurazione a settembre scorso, poi la chiusura dopo pochi giorni con la recrudescenza della pandemia, riaperture a singhiozzo fino al passaggio in zona gialla e bianca che ha dato respiro alle visite con numeri che sono stati finora comunque buoni. Sta per concludersi l'ultima mostra i diamanti prima dei lavori nel Palazzo che partiranno a fine luglio per proseguire circa un anno, obiettivo riaprire i diamanti al pubblico a fine estate 2022. E adesso passiamo allo sport perché ci sono diverse novità. Allora con la fine dell'Europeo pochi giorni fa è entrato nel vivo il calcio mercato, la SPAL ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo, cioè in prestito dall'Atalanta, le prestazioni sportive dell'attaccante ivoriano Emanuel Latte, attaccante di 22 anni, ha militato nelle giovanili bergamasche e poi successivamente ha giocato in Serie C indossando le maglie di Pistoiese, della Carrarese, dell'Imolese e nell'ultima stagione anche del Pro Patria il neo attaccante Bianco Azzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022, cioè l'anno prossimo ufficializzata. Intanto anche l'accessione di valotti al Monza, trasferimento con la formula del prestito e obbligo di riscatto, quindi sono già in corso diverse entrate e uscite in casa SPAL in attesa anche di novità per quello che riguarda la società. È atteso per agosto l'ufficialità del passaggio di quote a Tacopina, ma ovviamente vi terremo aggiornati. Ci sono anche delle novità però che potrete trovare sul sito telestesse.it riguardanti il settore giovanile della SPAL con i nuovi incarichi nella dirigenza. Dobbiamo rimanere ancora in ambito sport, parlare di basket perché ha infiammato i social, la presenza della star NBA, il serbo Nicola Djokic dei Denver Nuggets, MVP dell'ultima stagione a Ferrara in questi giorni per visitare il luogo di nascita di un'altra stella dello sport, il ferrarese, il cavallo ferrarese Varen. Djokic aveva come base la città estense dove dormiva ma si è riaccato, la sua vera meta era la scuderia nel coparese dove 26 anni fa nacque tra i più grandi trottatori di tutti i tempi il cavallo Varen, appunto Djokic infatti è un grande appassionato di Ipica e ha raggiunto la città estense durante la sua vacanza essendo finita la stagione, la sua stagione NBA e la Serbia Basket è fuori dalle Olimpiadi, è stata battuta dall'Italia, quindi questa foto lo vediamo insieme ai titolari di un ristorante del centro città durante una cena e quindi c'era un po' la caccia a Djokic per gli appassionati di basket in centro a Ferrara. Con questa notizia è tutto, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.